ciao a tutti siete pronti per una nuova puntata in un posto al sole e io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà andiamo a vedere che cosa dicono le anticipazioni che riguardano l'episodio che andrà in onda venerdì 4 ottobre 2024 diana fatica sempre di più a riprendere in mano la propria vita nunzio sotto pressione finirà per litigare con manuela al vulcano e vediamo un attimo cosa succederà povera diana vediamo un attimo se riuscirà a risollevarsi rossella vivrà un momento di vicinanza con un nuzio è finalmente vediamo un attimo cosa succederà fra i due sono molto curiosa cresce molto la sintonia fra rosa e don antoine ma la loro amicizia comincia a essere vista con un certo sospetto dagli abitanti del quartiere e vediamo anche qui che cosa succederà sono abbastanza curiosa di vedere questa vicenda come verrà affrontata vedremo nel frattempo lara cercherà di convincere la sua maura a non costituirsi visto che ha confessato a lara raccontato a lara di essere stata lei ad avere aggredito roberto ferri in un momento in un impioteo di rabbia vediamo un attimo anche qui che cosa succederà perché questa faccenda interessa veramente moltissime persone sono curiosissime di vedere come andrà a finire tutto quanto secondo voi cosa succederà cosa vorreste che accadano ai personaggi iscrivete nei commenti mi raccomando iscrivetevi al nostro canale youtube devo essere della squadra anche perché abbiamo tantissimi contenuti su un posto al sole ma anche su tantissimi altri argomenti e poi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti da marilena aliena del canale youtube e devo essere della squadra buona puntata a tutti quanti